Buongiorno e benvenuti alla Musashi Manufacturing. Come posso esservi utile? Buongiorno signora, sono l'agente... Siamo della TFCT e vi ordiniamo di interrompere immediatamente ogni vostra attività. Abbiamo ragione di ritenere che questa struttura sia utilizzata per la produzione di tecnologia illegale. Certamente, agente. Informerò subito chi di dovere. Sono arrivati finalmente. È tutto pronto? Certo che sì. Non se ne andranno vivi da qui. Fammi sapere quando le cose si fanno calde. Contaci! Quando avrò finito con loro saranno... Vedi solo che io non venga interrotto. Potrebbe esserci qualcuno con loro, un agente straordinario. Non c'è problema, sono pronto a tutto. C'è sempre qualcuno più forte di te, non dimenticarlo. No, non lo dimenticherò. Farò attenzione. Lo spero per te. Conosci le conseguenze del fallimento. Prego, sedetevi. Arriverà subito qualcuno per occuparsi di voi. Ma che... Attenti! Abbiamo compagnia. No! Scaricamento luoghi dati obiettivi. No! 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 grazie a tutti Sì! E' una maledetta imboscata E cosa vuoi dire? Questo posto è una trappola Il datapad era un'esca A quale scopo? Creare un diversivo Mentre noi siamo bloccati qui L'organizzazione tenterà qualcosa di grosso Vedrò di controllare i tuoi sospetti Per ora i tuoi ordini non cambiano Trova delle prove per incastrarli Sì signore Ehi! 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 Aiuto! 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 Per favore! Oh, che verifico! Oh, che verifico! Ciao! Ecco, prendi questo caricatore Dati direzionali in arrivo Oh, che verifico! Arggh! Anche se Oh 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 Avevi ragione Gli uomini dell'organizzazione Stanno attaccando un centro di cerca A dieci minuti da lì Ho inviato un'altra squadra Ma avranno bisogno del tuo aiuto Devi raggiungermi Ricevuto Ecco un nuovo obiettivo per te Konoko Ehi Oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusami, Konoco. Che c'è? Ho usato una scansione Teta a banda ampia per localizzare il centro di controllo delle difese della struttura. Rilevo la presenza di un sistema biomeccanico esperto dotato di interfacce di risposta e sistemi anti-intrusione. Un cervello mortale. Pensavo li avessimo eliminati tutti. Beh, Muro ne ha trovato uno che ci ha sfuggito. O se lo è creato da solo. Disattivando il dispositivo dovremmo riuscire a neutralizzare le difese aprendoci un passaggio fino all'uscita più vicina. Finalmente delle buone notizie. Dove si trova? Ehi, vieni qua! Prendi questa iposiringa. Prendi questa iposiringa. Prendi questa街 하는... Non blovi, non blovi! O se vi viene? Sei debole! Sei finita! Nordic racisti No! 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 Chi va? No! 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 Avevo detto di non farlo, ci ucciderà tutti! Scappa finché puoi! Perché l'hai costruito? Beh, sai... Insomma... Lascia perdere! Ora vattene e basta! Ecco! Nuovi dati di missione! Mi sono interfacciata col cervello mortale! È riuscito a uscire dalla intranet della Masashi e sta cercando di accedere al nodo di sicurezza della TFCT! Disattiva quei nodi di controllo presto! Sì! 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 Il subconscio del cervello sta tentando di infiltrarsi nelle reti pubbliche di informazione! Vuole presentarsi al mondo Vuole la celebrità Sta rilasciando un torrente digitale di sue immagini Fermalo Devi aver disassemblato la sua logica interna con l'ultimo impulso Il cervello minaccia ad irradiare la rete per un raggio di 50 isolati Se non ottiene ciò che vuole Dei piedi È chiaramente fuori controllo Ma il suo meccanismo di autodistruzione Xeox è estremamente potente Completa la sequenza finale e fallo tacere per sempre Grazie a tutti Come se la sta cavando? Secondo Shinatama la sua latenza da Odan è salita fino a 29 Ma le onde bioplasmatiche reggono ancora Allora è ancora stabile? Per quello che possiamo dire sì Ma uno stress prolungato potrebbe essere pericoloso È stata lei a insistere È per questo che ero contro il passaggio alla fase 3 Non abbiamo alcun diritto di Sono stanco di ascoltare le tue stupide critiche Conoco è una tua creatura Almeno quanto è mia Non abbiamo alcun diritto di costruzione